Sì, è vero. Infatti sono un po' dispiaciuto perché arrivo sempre lì ma non riesco a segnare. Però, insomma, a parte quello sono contento della prestazione, abbiamo fatto una buona partita. Comunque abbiamo affrontato una squadra forte e bisogna pensare alla prossima. Siamo arrivati in fondo che ce la siamo giocata tutta la partita e forse alla fine abbiamo gestito sia noi che loro il pareggio per non farci male. Sicuramente rispetto all'ultima uscita siamo stati più difensivi. Sì, sicuramente. Loro sono stati bravi dopo quell'occasione dove ho salvato il gol. Hanno preso sicurezza, noi forse siamo abbassati un po' e poi è continuata così la partita. Però abbiamo avuto qualche ripartenza, forse non l'abbiamo sfruttata al meglio, però abbiamo fatto una buona prestazione e va bene così. Infatti è una squadra fortissima, una squadra organizzata che comunque se arrivi nove partite alla fine e sei sempre stato lì davanti vuol dire che qualcosa hai messo. Abbiamo fatto una buona partita, comunque insomma un buon pareggio penso e quindi ora pensiamo alla sfida la settimana prossima. Bisogna giocare tutte le partite come finale e poi alla fine vedremo. Sì, loro ci hanno messo in difficoltà, si trovavano bene negli spazi, però abbiamo lavorato bene. Anche col centro campo siamo stati bravi, abbiamo chiuso bene, a parte qualche occasione ma è normalissimo contro una squadra così organizzata.